ciao a tutti sono celeste ho 21 anni e vivo a roma vi presento la mia famiglia i miei genitori vivono in un paesino nel lazio a due ore da roma mia madre si chiama margherita e mio padre luca mia madre ha un negozio di abbigliamento e mio padre gestisce un ristorante poi c'è il mio fratello matteo ha 15 anni ed è sempre con i suoi amici infine c'è mia sorella camilla ha 7 anni frequenta la scuola elementare è molto intelligente adora giocare con il nostro cane tartufo quando ho iniziato l'università mi sono trasferita in un appartamento con altre due ragazze si chiamano stella e laura sono molto simpatiche frequentano la mia stessa università ma sono iscritta ad altri corsi di laurea adesso mi sto preparando per andare all'università sono già in ritardo come al solito la solita corsa per prendere l'autobus ce l'ho fatta ciao celeste come stai? bene la lezione è già iniziata sì mangi qualcosa con me alla mensa universitaria no oggi vado a casa a studiare domani ho un esame ciao celeste mangi qualcosa con noi sì al volo perché oggi pomeriggio devo studiare per l'esame di domani come studiare pensavo saresti venuta alla festa di giovanna ma non è stasera no è di pomeriggio perché sarà su una barca faremo un aperitivo in mare non è stupendo vorrei venire con voi ma dovrei studiare non so proprio che fare no è stupendo a tutti i nostri spettatori